Si è svolta presso la masseria a Mastuola un'iniziativa della FLAI CGL di Taranto. La giornata è stata divisa in due momenti, riunione del comitato direttivo dell'organizzazione, la presentazione del libro Braccianti ieri ed oggi nella terra dell'acciaio, scritto da Gianni Forte, segretario regionale dello SPI CGL, da Lucia Lapenna, segretaria generale della FLAI CGL di Taranto. Nel volume sotto forma di conversazione vengono ricostruite pagine che hanno segnato la storia recente della provincia di Taranto sotto il profilo delle conquiste del lavoro, dello sviluppo sociale ed economico. Il comitato della FLAI Ionica ha approvato un documento nel quale viene rilanciata la necessità di una forte mobilitazione della categoria per il rinnovo del contratto collettivo provinciale dell'agricoltura. Questo libro ha un obiettivo chiaro, che è quello di definire, ridefinire, tracciare quello che è il lavoro in agricoltura e quella che è la figura del bracciante per poter ridare a questo settore dignità e rispetto. Sono convinta che l'agricoltura possa tornare ad essere al centro della nostra economia, non solo per le difficoltà che il nostro territorio ha e riscontra, ma proprio perché ha una nuova attrattiva. Ripeto, ha conquistato fette del mercato nazionale ed internazionale, quindi può essere un'alternativa sicura. Per farlo però bisogna continuare a lottare per garantire pieni diritti ai lavoratori. Per questo la FLAI di Taranto è pronta a richiamare alla mobilitazione tutti i braccianti per richiedere il rinnovo del contratto provinciale dell'agricoltura.